Sono i principali innesti di questa prima fase di mercato del nuovo gubbio targato Roberto Taurino e Alessandro degli Esposti. Partiamo da un ritorno che risponde al nome di Giacomo Venturi, portiere classe 1992 che trascorsi il rosso-blu l'annata 2012-2013 e che negli ultimi anni ha ottenuto ben due promozioni dalla CLAB con la Reggiana prima di accasarsi lo scorso anno alla Casertana. E così Venturi ha ritrovato a distanza di due lustri l'ambiente Eugubino. Ho ritrovato magazzinieri, fisioterapisti che ho visto negli anni come ci siamo affrontati ma sicuramente è stata una bellissima emozione tornare qui al Barbetti e devo dire che sono molto contento della scelta che ho fatto. Proverà a fare un'ulteriore crescita il classe 2004 Antonio David, laterale mancino che arriva in prestito dal Cesena dopo il campionato dominato della passata stagione e che descrive così le proprie caratteristiche tecniche. Mi piace molto mettere cross ai compagni, mi piace metterli sulla testa proprio per aiutarli a far gol, mi piace molto la corsa e quindi sì il mio ruolo è sempre stato quinto, terzino. A caccia della definitiva consacrazione invece l'attaccante arrivato in prestito dal Crotone Eugenio Durzi che a 29 anni dopo varie esperienze in giro per lo stivale ha voglia di replicare se non migliorare l'annata vissuta a Catanzaro 5 anni fa quando mise a segno 15 reti in una singola stagione con le aquile giallorosse. Io mi sto allenando tutti i giorni a 1000 all'ora perché voglio fare l'annata più importante, spero di fare l'annata più importante della mia carriera gli obiettivi, l'ho detto anche al direttore, sia mia che quella della società, spero che questi obiettivi li raggiungiamo tutti insieme sia personali che di squadra. Vorrei superare i 16 gol e spero anche la squadra che arriva a una posizione molto migliore di quella dell'anno scorso però vedendo il gruppo, vedendo il mister come stiamo lavorando ci possiamo togliere grandissime soddisfazioni. Infine a centrocampo è arrivato dalla Ternana dopo l'annata alla Casa Ertana il veteranissimo Mattia Proietti 32enne, eclettico, centrocampista che parla così del suo ruolo in campo descrivendo anche il girone che il Gubbio andrà ad affrontare. Io ho giocato tanti anni a due quindi quello non è un problema, un centrocampo a tre tendenzialmente tendo a fare il play mi piace più stare davanti alla difesa però non penso sia un problema, quello con il mister troveremo sicuramente la posizione migliore per me per aiutare la squadra. Questo sarà secondo me dei tre il girone più equilibrato e probabilmente con una non favorita ai nastri di partenza quindi bisognerà farsi trovare pronti per arrivare il più in alto possibile.